L'inverno è già arrivato per Martin Winterkorn, l'ex numero uno di Volkswagen, costretto a fare un passo indietro 5 giorni dopo l'esplosione dello scandalo e emissioni truccate, ha lasciato la presidenza di Audi. Era solo questione di tempo, dicono gli esperti, dopo che a ottobre il manager 68enne aveva mollato anche le sue cariche in Porsche. Nei giorni scorsi il caso emissioni ha assunto proporzioni ancora più grandi. Oltre a truccare i test, la casa automobilistica tedesca ha ammesso che 800.000 veicoli hanno emissioni e consumi dichiarati minori di quelli effettivi.